Ciao, sono Luiz Calzolari e questi sono i miei capelli. Faccio tante cose, faccio dei video, faccio degli spettacoli, faccio del teatro, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, faccio delirio, non faccio delirio, faccio la balorda, non faccio la balorda, faccio l'ardo ai giovani, non faccio l'ardo ai giovani. E quando non faccio l'ardo ai giovani faccio i video, se non faccio i video faccio qualcos'altro, comunque qualcosa, lo faccio. Ci spieghi Luiz in che cosa consiste la tua carriera e che cosa fai di bello? Fare da tanti anni teatro con i ragazzi disabili della cooperativa Nazareno, con la quale abbiamo ottenuto un ottimo feeling, soprattutto anche lavorativamente parlando perché facciamo uno spettacolo tutti gli anni. L'altra cosa per quale sono colonna portante cos'è? Tu sei una colonna portante di tanti video, di tanti video che in circolazione stanno scatenando una curiosità terribile. Puro divertimento, goliardia, che deriva anche dal fatto goliardico della balorda, come deriva anche dal fatto goliardico di lardo ai giovani, un altro gruppo di pazzi nella quale partecipo e condivido la follia e quindi questo mi viene abbastanza bene. Tu ti sei travestito anche da Freddie Mercury a Bologna, perché? Perché stiamo girando un video con il Tangest Time, un altro gruppo demente, nella quale mi dito che prevede il mio abito da Freddie Mercury. Sono un po' il catetere tra il pubblico e la band durante le esibizioni live e quindi anche nei video un po' mi devo travestire. Tu ci hai appena iniziato con un tuffo in piscina vestito da piovra. Il Polipo è successo anche questo, sì. Durante le registrazioni, del video sempre di Tangest Time al mare, quindi il Polipo ormai fa parte di un pezzo di una nostra canzone e sul palco è presentissimo e piace molto la gente, anche il Polipone. Sicuramente c'è una morale profonda in tutto questo, che cosa? No, solamente il divertimento, divertitevi ragazzi, finché c'è tempo. Divertiamoci, stiamo bene al mondo, serenità, non stag da Dio, insomma, un po' di tranquillità. C'è troppa frenesia, perché? Salutiamo tutti gli amici della Balorda e tutti gli amici che ti seguono. Salutiamo tutti, guardate tutto, tanto internet, andate lì, cliccate, scrivete, guardate, ci sono tante cose, Lardo ai Giovani, Labalorda, Tangest Time, Bianca Serenatruzzi che fa i video, è bravissima. Internet, è così semplice, usatelo bene, non a Candy Crash, per favore, no! Ragazzi, non abbiate paura, porterò la serenità, la serenità, la serenità.